Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per lavori, 3 km di coda tra Ginestra e Lastra in direzione Firenze e rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Sulla A1 in direzione Bologna è chiuso fino alle 13 il tratto tra Barberino e Aglio per lavori in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Barberino e Calenzano. Con il rientro a scuola anche delle superiori è in atto una nuova fase del trasporto pubblico. Aggiornamenti e collegamenti in diretta sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 800 570530. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!